Carciunì, Sonstevold dentro, cercare Ciawinga che si gira benissimo e arriva il vantaggio dell'Inter, contabita Ciawinga, Pomigliano 0, Inter 1, al minuto numero 53 la sblocca Ciawinga e trova l'ottavo gol in questo campionato, messo in apprensione tutta la difesa del Pomigliano e qui all'improvviso cross di Sonstevold, Ciawinga riceve palla, si gira in maniera rapida e con un guizzo mancino, Trova il gol dello 0 a 1